Quale bambino sarà buono? Cinemi o scinsonico o popcat? Guarda fino alla fine! È ora! Lo porterò all'allenamento! Evviva! Salta oltre questo! Ok, saltiamo! Principiante! Wow, sono più forte! Wow! Ce la sto facendo! Vieni qui! Ultimo salto! Fatto! Sono così forte! Dopo la radiografia sei a posto! Cosa? Mamma hai sentito quello! Ti sto rapendo! Torna indietro! Aspetta dove sono! Questa è una gara! Questa è una gara! Oh my god! Mio dio! Voglio tornare da mia madre! 3 2 1 Inizia! Wow! Wow! Sono più alto! Cos'è questo? Ah! Sono P.B.A.S. Così vicino! Rosa o pistola fratello! Cos'è quello? Oh my god! Smettila di sparare! Non è un'altra cosa! Oh my god! Lei vincerà! Non è un'altra cosa! Non è un'altra cosa! Non è un'altra cosa! Ah zombie! impossibile scarte le mie gambe l'ultima vado per primo mio dio scelgime 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 oh mio dio scelgime scelgime lui è cattivo ti scelgo si no wow dove siamo puoi aiutarmi a scendere wow per favore buono fammi vedere cosa hai fatto hai accerato molte persone aspetta questo è davvero brutto il prossimo no 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 stava picchiando il suo ragazzo è vero tubers si mio dio smetti di mentire sei una cattiva persona l'ultimo non riusciva a smettere di ritare ok questo non è male ma sei comunque cattivo ciao no metti mi piace e iscriviti prima che quei obiettivi spariscano dallo schermo oh ciao dove sono mostrami le tue azioni stava rapinando banche amico restituirò i soldi è troppo tardi mostrami la prossima cosa amavarle il quino em va bene lo amo mio dio è bello l'ultimo stava picchiando i più potenti en ero buono dammi i tuoi soldi o hai cercato di aiutare è una cosa buona ah adoro questo lavoro l'ultimo il più difficile ah povero cosa sto facendo qui è il giorno del giudizio ti pagherò faceva il bullo ai poveri bacon fratello perché hai fatto questo amo i soldi prossimo stava scorreggiando addosso le persone è disgustoso mi dispiace ok non è male l'ultimo non usciva perché era odiato dalle persone non è male eri triste vai ah gran giorno ok penso di poterti dare un'altra vita davvero un nuovo bambino mi hai adottato si mostrami le tue abilità questo è troppo grande sei devo bambini ho avuto è stato così vicino perché mi trovo in questa situazione di notte prendiamo vendetta papà sta dormendo muscoli oh mio dio ecco il suo cervello odio questo bambino sta cercando di prendermi a calci distruggerò i suoi muscoli ho perso tutti i muscoli il mio compleanno dammi i miei regali un libro per te wow sembro grassa per te il mio tummo ho trovato un fiore per te mamma cattiva ehi controlla la tua altezza va bene va bene io per primo no perché sei troppo piccolo mio dio è il mio tummo no 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 per favore aiutami invio potere a bocca cosa? come? perché? ah puoi andare ho potere non può essere così oh no è il tuo momento sono bloccato fa male non è ancora finita è abbastanza devo sollevare è difficile dargli poteri divini wow ho le mani ah funziona sembro fantastico ah lasciami provare il mio potere wow wow ho un potere incredibile oh cosa sta succedendo bulli? fratello non sono tuo fratello qui è il tuo posto prigione per favore no per favore no ah cosa è appena successo? wow e si ricomincia la persona che perde non torna mai indietro wow prossimo prossimo sei un principiante sto scegliendo i bene è ora di giudicare catturava i criminali più ricercati è fantastico è stato licenziato dal lavoro è stato licenziato oh no ma non è male è stato arrestato e ha formato una gang l'ultimo ha formato una gang lol ma va bene chi è il prossimo? figlio per favore ero buona mio dio mamma mai ciao ok ho finito il mio lavoro oh my god ti sto dando la prossima vita viene lui ciao cosa è questo? perché è così piccolo? è più piccolo degli altri bambini cosa? ma forte cosa hai fatto? dobbiamo allungarti non fare questo e ora sono ancora più piccolo non preoccuparti figlio ecco la tua stanza wow wow è pic non lo merita la mia stanza perché? mi dispiace figlio ho ristrutturato la tua stanza che cosa? questo è troppo alto per me il giorno dopo wow questa scivola è davvero pericolosa mi dispiace primo sei bravo è il mio turno sei troppo piccolo cosa? è il mio turno sono bravo ehi non è giusto mamma oh ho paura ti aiuterò ah sorella com'è stato? M ha perso le gambe cosa hai fatto? mi dispiace punizione è troppo non sarò mai professionista mia madre mi odia diventerai alto il giorno dopo aspetta mi sento più alto cosa è successo? mamma e papà guardami non mi importa posso partecipare a una corsa? sì oh sì inizia wow sono così veloce cosa? per te wow wow ae per te mamma ho preso dieci volte ae wow e ho preso f a è giusto a causa di popcat cosa? aiutami nel frattempo mi affogherò qui aspetta sono uscito e sono ancora più alto ah sono davvero arrabbiato nascondiglio li sento ciao mamma aah dov'è lei? addio mamma vendetta per il passato aah cosa hai fatto? è troppo oh me mi sento male questa è la ragazza più alta del mondo non sarò mai alto come lei aspetta se vuoi essere più alto salta sopra questo cosa? ci proverò nonna l'ho fatto wow ora salta sopra questo ok ok hai bisogno di motivazione wow 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 sono così alto ah salta sopra questo difficile per me l'ho fatto non può essere così distruggilo ragazzo oh no salto stanno arrivando l'ho fatto ah un abbonamento e un mi piace equivale a una ossa per me per favore non riesco stanno arrivando no stanno sparando questo questo è difficile ah l'ho fatto l'hanno colpita salto successivo ah l'ultimo salto sono così grande oh cosa vedo chi è la persona più alta del mondo ho vinto non tre molto a cosa si agr non mi batterai mai cosa hai detto hai vinto cosa hai fatto ora lei è la più alta sono così triste sei così piccolo quindi resterai lì per dieci anni no non per dieci anni dieci anni dopo sono cresciuto così tanto aiutami ho perso la mia altezza prendi questa pozione mamma gambe lunghe ho bisogno della tua altezza ora hai preso la nostra altezza è ora di uscire omg cos'è quello devo colpirla prossimo tentativo pozioni elicottero sono sulla sua testa smetti di crescere proprio adesso omg ho perso tutto distruggerai il mondo ehi povero sei cattiva aiutami vieni qui sto crescendo è il fratello lasciali in pace aaa perdente addio salto successivo wow prossimo aggiornamento non riesco questo è troppo difficile non posso sapevo che non ce l'avresti fatta sono arrabbiato l'ho fatto ultimo salto facciamo una gara per la tua altezza vincerò no lo farò io andiamo ehi ora è difficile posso volare chiaro aspetta qui figliolo vieni con me no ti creerò un nuovo account cominciamo questi occhi poi questa bocca la compro alla testa guarda un amico viola wow questo è un completo devo comprarlo e la corona mettiamocelo oh my god oh hell no ah per favore smetti sto cambiando a causa tua bene indossiamo le altre cose cambia la pelle del corpo ora sei perfetto vediamo oddio sembro un trentenne inquietante ora trovo una nuova famiglia sei un noob ehi smetti sei brutto mi vendicherò di te ehi vai via grazie di no ti prenderò ciao ragazzi sono tornata wait a minute cosa? è stato orribile si si ma ehi ho visto tutto no non l'hai fatto dirò all'insegnante non so chi l'abbia fatto vieni qui torna sono arrabbiato ah sei bloccato oh no no mi ha mangiato dieci anni dopo quindi chi vuoi prendere? questo è brutto per favore li prendo e viva e viva nessuno mi vuole ho undici anni ti troveremo una nuova famiglia vieni siamo la famiglia del direttore oh wow non unirti a noi mettevano pressione al figlio per avere i voti migliori picchiandolo con un righello no ho preso un F cosa? 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 smetti di picchiare questo ragazzo cacciavano i bambini da scuola per un brutto voto solo uno si avevano un problema con pisciare su un water chiuso aspetta cosa? fratello hanno allagato l'intero bagno con acqua gialla a causa del loro problema mamma e papà si baciavano durante la lezione mentre tutti i bambini guardavano ti amo ti amo gli appuntamenti online sono brutti vogliono adottare l'amico viola e trasformarlo in un seccione non diventerò mai uno sfidato vieni qui no 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 smetti però da te il giorno dopo prossima famiglia A F B B insegnano a suo figlio l'alfabeto 24 su 7 mentre è stanco tenevano altre lettere dell'alfabeto in prigione wait a minute aspetta cosa perché li metti in galera perché ci piace l'alfabeto facevano la cacca sul water senza aprirlo che diavolo oddio è troppo non posso unirmi a voi mi sento sono e triste troverai la tua famiglia preoccuparti ok scommetto ciao sono spongebob oh my god mangiavano troppo non voglio mangiare così tanto dovete hanno mangiato accidentalmente il loro bambino mi hanno mangiato il dottore ha detto loro che devono far uscire il loro bambino con la tacca e lo hanno fatto cagare fuori ok wow è stato bello vivevano sott'acqua come sei tu? sono sotto l'acqua ehi non riesco a respirare sott'acqua scusa ma non ti voglio agri siamo arrabbiati oh my god ho perso le ossa o prossima famiglia spero che sarà buona aveva cento figli contemporaneamente cosa? guarda guarda oh my god troppo niente paura fratello è stato brutto rilassati sono solo cloni i suoi bambini lavoravano in fabbrica per lui vogliono fare un milione di bambini e conquistare il mondo sei una brutta persona non voglio essere adottato da te così mi vendicherò di te oh no ah facile questa è l'ultima famiglia o ti caccio va bene va bene wow penso che siano perfetti la mamma picchiava il papà cosa? vieni qui vecchio mio cosa? il papà piangeva sempre a causa di sua moglie e riempiva la casa di lacrime costringevano il loro bambino a spaventare gli altri bambini erano al verde perché avevano speso tutti i loro soldi alla lotteria no questa famiglia è tragica per favore l'ultima no sono senza casa questo esperimento è molto brutto è la tua fine a oh no no chi sei? come iscriversi per ottenere Robux gratis ti abbiamo salvato grazie mille AGRR creerò un nuovo esperimento e uccidere ora ti trasformerò in amici amore 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 io essere alto o basso gambe o senza braccia braccio gambe ho perso le gambe cervello o faccia spaventosa entrambi wow zampe di cane bene dove sono mi sento strano facciamo uno spavento ho paura puzzolante sto glicciando stridio o cane stridio alto o grandi braccia pomodoro glicciato e l'ultimo ha pronto cinque anni dopo wow sono più grande bene ora vieni con me papà attraversa questo per aggiornarti al mio livello wow papà voglio essere come te dobbiamo prenderlo andiamo va bene biciando hanno biciato la mia corsa che numero rosa arancione o rosso rosa sto biciando ho biciato ruote occhi o senza occhi ruote macchina due teste ho un collo lungo l'ultimo cacca wow wow sono potenziato sono tornato ma dove è mio padre ah abbiamo preso tuo padre no devo avere più potere wow oh no sì no ho preso delle spine l grande ciambella bello guarda quelle gambe bello ora devo trovare mio padre 30 anni dopo ok ho trovato qualcosa sto entrando la mia famiglia ti ucciderò no sto chiamando la polizia stai chiamando la polizia sei arrestato perché io perché sei entrato in casa di qualcuno no ehi combatti con lui no 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 polizia aiuto va bene vieni con me grazie valutali per uscire di prigione oh non sono il giudice ma ci proverò stava cercando di evadere dalla prigione con un razzo era divertente ma anche brutto ha scavato un tunnel sotterraneo dove ha catturato ogni cattiva persona aspetta cosa non mi prenderete mai ehi torna sotto il suo vestito c'era un goblin che lo controllava quindi non è Buzz è un falso Buzz controllato da un goblin male oddio ok prossimo mangiava le persone che entravano dalle porte perché l'hai fatto ti sono spaventato guardava le persone attraverso le finestre delle porte con l'uomo dalla finestra aveva un bambino con l'uomo dalla finestra oh my god ciao fratello prossimo glu non ha amici oltre ai minion è triste usava i suoi amici per diventare il re della prigione e meno male i suoi amici si clonavano ogni giorno clonazione? sì sì ci stiamo clonando sì ci stiamo clonando non di nuovo facile ok vai libero grazie bello ne restano solo due ha fatto la cacca nella doccia della prigione non faceva mai la doccia così le persone morivano per il suo odore cavalcava così tanto il suo cavallo che il cavallo sveniva sei una brutta persona mi dispiace no ok l'ultimo mangiava i membri della sua famiglia era davvero grassa oh my god ha un problema allo stomaco e vomita su ogni prigioniero dopo aver mangiato quando dorme fa la pipì e le persone che dormono sotto di lei si arrabbiano oh wow queste cose sono strane ma tu sei buona grazie ora posso uscire? sì sì grazie 99 anni è passato molto tempo papà ti ha distrutto tutti sono così triste ehm vieni qui sono in paradiso per favore votami cosa posso valutare? catturava i bambini e li trasformava in cose spaventose questo è brutto? a me era in prigione 20 volte ha distrutto la vita e la famiglia dell'amico Viola eri una brutta persona ah è la fine della mia vita felice ricorda di essere sempre positivo guarda fino alla fine per vedere la quinta evoluzione lampo dell'amico arcobaleno fratelli sì dobbiamo entrare in questo parco giochi e scivolare dalla diapositiva estrema controlla prima la tua altezza facile non puoi andare omg bene io accanto vai ottimo è così triste e non poter divertirsi con loro oh ragazzo incondotto hai qualcuno mi ha colpito oh primo ragazzo devi usare il nostro parco giochi aspetta un attimo scegli uno voglio il verde andiamo scivolo divertiti a dove sono? faccia da anatra o piccoli o no odio i cetrioli sottaceto non è divertente inferno o alto alto non è buono vecchio o giovane giovane sono un brutto bambino sbalzo sono troppo spaventoso fuoco o essere buono buono no voglio essere buono colpa mia non cattivo cosa mi hai fatto? ah questo è solo il tuo primo livello fammi entrare vai fratelli fratello 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 mi avete lasciato prima del tempo per la punizione ragazzi volete scivolare? ume cosa? questo non sembra buono non mi interessa no ah dove sono? slime o no dell'acqua in bocca sono la regina blu o verde 100% blu wow sembro blu grande o piccolo grande nessuna differenza pericoloso o no pericoloso non voglio sembrare così carino o bruto brutto carino tempo di teletrasporto si shrek denti di squalo arancione o senza occhi 100% arancione aiutami la mia testa mani di gecko o faccia spaventosa gecko abbaio lava o acqua lava ok ok sembro spaventoso roblox o mani mani wow wow grassoccio o magro cosa è questo? no occhi grandi i miei occhi vedono tutto oh ma viola o blu viola mi piace mani lunghe e gambe lunghe ok l'ultimo vivi nelle fogne o in un mcdonald's fogne andiamo oh no ci ha cambiato per sempre mamma mamma oddio che cos'è questo? ci cambia si sembri brutto dove sono i nostri figli? dieci anni dopo primo giorno di scuola ah sembrano strani cosa? no per favore per favore no no per favore è ora di passare al secondo livello AA andiamo sento qualcosa ora che? wow è stato pazzesco dobbiamo arrivare al livello successivo aspetta se volete il prossimo livello dovete trovare le porte oddio lo troverò io per prima eccoli qui entriamo sto avendo problemi è stata una cattiva idea muscoli grandi o capelli di chad muscoli gambe lunghe o testa grande gambe lunghe forte forte sono troppo grande essere un giga chad o avere la mano più grande giga chad aiutami denti affilati o grasso sono troppo forte devo essere grasso grande cervello sono in forma è il mio turno penso che sia qui da qualche parte mi dispiace eccoli qui aspetta questi non sono i miei muoviti dal mio cammino tempo di entrare ah eccoli qui oh no è ora di entrare sono pronto ah sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione non riesco a trovarlo meglio fare presto ahi fratelli aspetta vedo eccoli qui ah ora che metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti robux oh no oh no oh no ehi cosa sta succedendo insegnante mi dispiace vieni alla lezione adesso ok ti diamo a e o ti caccio dalla scuola figlio vieni prima ciao papà era estremamente intelligente wow odiava gli studenti stupidi are you serious right now figliolo chi pensi che sia stupido loro bravo ragazzo a e amava suo padre perché gli dava a e tutti i giorni questo è così dolce prendi questo a e grazie papà è stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante non è vero io ti tratto allo stesso modo a e ok è il momento della parte negativa aveva la rabbia aspetta cosa cosa mi hai fatto cattivo era sempre il più alto nella stanza oh my god io sono il più alto no io non puoi essere più alto di me cattivo la sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto mostrami non posso ma posso spaventare no mi hai spaventato ti caccio dalla scuola ah chi è il prossimo per favore non io vieni blu era disgustoso e le ragazze scappavano da lui ciao ragazze brutto tu smettila di spaventare le nostre studentesse cattivo il suo alito uccide le persone mostrami disgustoso non sa leggere il suo cervello è piccolissimo ah che cervello piccolo calcio ne sono rimasti solo due è il più veloce della scuola fammi vedere ok è davvero veloce bene mi piace a e grazie i suoi voti sono f f f f e f bravo per questo motivo devo darvi un calcio è diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo oh no è troppo calcio ultimo sembri un nerd mi dispiace ah fermati per favore era estremamente solo era estremamente stupido oh my god non piaceva a nessuno e non aveva amici calcio aspetta perché e siamo chiusi il poliziotto sta dormendo è ora di uscire è vero chiave tempo di aprire sono scappato trova il mio adesso per favore ok oh no sta dormendo tornate indietro ma apri velocemente si sono due rimasti non scapperai dal carcere oh no sta arrivando ecco la chiave fermati adesso criminale ok calma ti ho preso salto di popcat ok usciamo l'ultimo dove è la mia chiave guarda nei ruote bro usciamo ah è tempo per il prossimo livello ok siamo grandi ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione ehm cos'è questo se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte sono davvero difficili da trovare in bocca al lupo aspetta un attimo aspetta cosa è il momento di trovare tutte le mascotte vieni da papà ah sembrano strani ho dolore ma l'ho presa omg vogliamo questa evoluzione qui sono troppo grande un'ora dopo finalmente ok andiamo qui l'ho preso oh my god oh mio dio la mia evoluzione è spaventosa oh mio dio eccolo qui se vuoi combattere contro di me facile wow ok ho la sfida più difficile ah noob non hai l'evoluzione ah noob non hai l'evoluzione ah non hai l'evoluzione ehi fermati wow prendilo ehi prendilo mai come come è facile salta semplicemente facile l'ultimo salto wow sembro fantastico il giorno dopo creature selvagge stanno distruggendo brookeven rp sì la polizia dovrebbe fare qualcosa quindi non uscire ehi dovremmo divertirci sul parco giochi sivolo sei arrestato cosa il giorno dopo ok ok è il momento di giudicarvi stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone wow wow ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito ok per me è disgustoso rosso no per favore ah è il tuo turno omg sei così grande erano controllati dal dottore sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi sono diventati da neonati a mutanti ok il mio verdetto è devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto cosa grazie vecchi amici arcobaleno sono noiosi abbiamo bisogno di qualcosa come loro bambini entrate wow sono il primo ciano o rosso due occhi o uno due ovviamente bello testa di banana o normale wow prossimo denti o un dente un sacco di denti bello scia blu o nessuna scia lingua lunga o cuore cosa dovrebbe essere lungo bru e l'ultimo coda o spine coda usciamo sono il prossimo gambe o ali ali wow occhiali da sole o occhi occhi ovviamente che diavolo prossimo elica di elicottero o la cosa elica wow testa di uomo o testa di gecko gecko wow giallo o rosa giallo wow sono giallo sono il prossimo cosa diventerò sedia del re wow sono il re corona o cappello smetti di cappello oh my god solo corona solo corona un occhio o caramella prossimo nubo o acqua dalla bocca acqua ok e prossimo blu o cacca blu sono pronto sono il prossimo gambe da ragazza o dottore gambe da dottore figo cosa è questo sto scegliendo questo figo testa rossa o faccia felice testa rossa blu non posso vedere non ho occhi wow prossimo cravatta o scarpe cravatta pistola o questa cosa questo ok andiamo sono il prossimo ratto o testa testa bello seconda testa o uccello omg testa o cacca terza testa quarta testa wow e ora occhio colorato entrambi bello e ora gli occhi bello e l'ultimo carrello sono il prossimo dottore capelli bianchi o normali bello barba o barba questo bello occhiali o no occhiali camicia oddio mancano solo i pantaloni sono pronto ok sono il prossimo verde denti o dente dente forse denti lingua o no lingua occhi piccoli o grandi questa trama verde e corpo lungo occhi grandi o piccoli grandi ovviamente prossimo viola o giallo viola braccia lunghe o corte lunghe wow gambe lunghe o corte lunghe wow molti denti o un dente molti wow sono perfetto sono l'ultimo e ero nel capitolo 2 quindi prima testa di gecko o cane gecko cos'è questo occhi grandi coda verde o arancione 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 o viola arancione pelo arancione e ultimo e ultimo grandi denti wow ok siete tutti pronti e ora facciamo fuori alcuni di voi baby blue il prossimo giallo ma vecchio teste nel carrello sapete una cosa è ora del mio preferito è ora per l'amico rosso prossimo amico arancione giallo ok ora è il momento per i ragazzi più grandi blu sulla sedia wow quindi ora viola sei così alto fa male e l'ultimo verde non mi piaci tu e tu ma tutti voi andate al capitolo 2 aspetta tu e la tua squadra siete arrestati e ora sarete tutti valutati iniziamo con te omg prima di essere ciano era arancione ma l'amico rosso lo ha cambiato ah cambiamo te bello questo è buono per me ha mangiato l'amico verde e poi lo ha vomitato giorno normale negli amici arcobaleno ah ho fame per favore no giorno dopo gli amici arcobaleno lo hanno spaventato ma lui li ha distrutti non puoi scappare ora per vento ora cosa non ho sentito nulla omg hanno un lato così forte devi essere spaventoso ti stava inseguendo sul gokart la sua nascita alla morte è stata molto triste ok era strano stava cacando ovunque sulla mappa ed era disgustoso cosa sta succedendo sto solo facendo la cacca aveva una famiglia che lo aiutava mostrami la tua famiglia guarda dietro di te dolce per me sei una brava persona e vai al bene lanciava persone da un'altezza di 100 metri dal suolo non saldare finché non trovi un posto sicuro dove atterrare wow è stato molto brutto aveva dei bambini nel suo nido che erano suoi figli wow penso che sia il momento i miei bellissimi bambini può gliciare e portarti fuori dalla mappa al nuovo capitolo ha rapito tutti gli amici arcobaleno nel suo nido e li ha mangiati aspetta cosa cosa stanno facendo brù distruggiamoli ah facile che diavolo porta i giocatori nel suo nido e li spaventa wow bello spavento ma sei cattivo dovevi raccoglierli tutti ma poi hanno creato un nuovo mostro siete tutti raccolti quindi cambia il mostro ok che diavolo stavano diventando ultra grandi e volevano cambiare la città aspetta che cos'è questo omg questa è un apocalisse erano ovunque e non potevi muoverti per me sei la peggiore persona ciao ora per il prossimo era una persona normale ma lo hanno cambiato wow era la tua vera faccia è stato trasformato in un supereroe e ha iniziato a combattere con il giardino di Bambam ragazzi mettete mi piace e iscrivetevi e vi sveglierete con uno miliardo di rocks c'è successo più di quanto sia successo nella mia intera vita si è seduto sulla sedia del re e ha fatto risorgere un esercito di amici blu siete il mio esercito conquisteremo il mondo wow incredibile si è seduto sulla sedia del re ed è morto perchè era inutile sono il me sei buono ha trasformato i bambini in amici arcobaleno prima di diventare un mostro OMG bro questo è male si è accidentalmente trasformato in un mostro che diavolo ha mostrato le facce di ogni nuovo e vecchio amico arcobaleno e tutti l'hanno vista ok vediamo il tuo volto no per favore cosa? bello prossimo arancione prossimo blu ancora prossimo verde vediamo cielo spezia pensavi che ti stessi sentendo prossimo rosso ruscello perchè? stavo solo facendo un video prossimo tante teste cosa? nonno eri teste per tutto questo tempo allora prossimo viola amico kaichenat ti ama amico rosa e ultimo ma non meno importante ok prossimo ha rubato i colori da ogni ragazza amica arcobaleno defense oh no I'm too weak hello honey I'm not there oh I'm so glad to hear oh no no la sua ragazza ha perso i suoi colori e lui ha sacrificato i suoi colori per salvarla oh my soul oh hey thank you omg era bellissimo rosso vai al bene prossimo quando era più giovane non poteva smettere di crescere nel sonno e poi si è trasformato in un amico viola buonanotte figlio buonanotte mamma non mi sento molto bene figlio cosa sta succedendo omg wow è un bambino strano ma va bene era nel condotto dell'aria ma qualcuno lo ha rubato e cambiato omg spaventoso dopo il cambiamento stava catturando persone dall'acqua nel nuovo capitolo wow è figo qualcuno lo ha messo nei water ed era bloccato lì che diavolo dopo che un ragazzo lo ha aiutato è diventato famoso wow bene per loro aveva braccia così lunghe che rapiva le persone dall'altra parte della mappa questa è un'abilità molto buona per me sei buono aspetta dove è il prossimo vediamo cosa hai fatto ti faceva prendere un colpo di paura quando andavi nella direzione sbagliata in carta wow ok prossimo ha creato una stanza segreta nel pavimento aspetta quale stanza segreta oh my jesus hai installato acri ed era troppo veloce sono troppo lento ho bisogno di girare acri ha mangiato il blu e tutti hanno visto quello hai mangiato il blu cosa grazie per avermi ricordato che è ora di cena era male mangiava troppo ed è esploso questo cibo è così buono aspetta non mi sento così bene per me sei una persona cattiva mi dispiace prossimo è diventato troppo grande ed era più grande della mappa cosa era questo omg? ha distrutto accidentalmente la ruota panoramica wow bella ruota wow questa è accesa la sua danza era accesa mostrami ha scaricato acri ed era troppo alto ok bro non tutto andava bene ma nel complesso sei una buona persona ok prossimo nonno era il papà degli amici arcobaleno ha preso un colpo in testa e si è incastrato sulle montagne mosse wow era una buona scena l'amico giallo lo ha portato nel suo nido e ha cercato di mangiarlo ma il nonno lo ha ucciso l'amico giallo mi ha rapito qui è ora di vendicarsi va bene e mi sei un buon nonno ok ora per il prossimo tamataki stava giocando con gli amici arcobaleno ed è stato preso dal giallo OMG sei un originale ha provato a spaventare gli amici arcobaleno ma ha avuto uno spavento e è morto ti ucciderò vieni a prendi la L facile è stato tagliato a metà dall'amico rosso e poi gli ha aggiunto una nuova testa tamataki sei troppo dolce andare al bene si sono uniti agli amici arcobaleno e hanno avuto un colpo di paura OMG strano sono tutti morti a causa loro hanno fatto una lotta di spaventi e il giardino di bambana è morto ok ragazzi gli amici arcobaleno sono migliori mi dispiace e penso che l'ultimo sia qui wow box OMG erano bambini che cantavano prima ma si sono trasformati in mostri ah questi ragazzi sono incredibili ora li cambierò hanno iniziato a cantare una canzone che ha distrutto gli amici arcobaleno ok ragazzi è stato fantastico grazie e vai al bene dammi i tuoi figli lo sento il giorno dopo finalmente ti ho trovato e ragazzo ti adotterò misuriamo sei quasi come una modella faremo un sacco di soldi da te guarda cosa ho trovato cos'è questo? no 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 non riesco a respirare prenditi cura di lui sorella ti odio cosa? sono nella sabbia aiuto questo? no per favore è il mio incubo ciao ciao è troppo no per favore nuaa non sarai mai alto come me non so nuotare tocco a me aiutami non ho ossigeno lo squalo sta arrivando dove mio figlio basso noob dobbiamo fare un'operazione in fretta morirà non mollare stanno facendo stanno facendo l'operazione cos'è questo? glu wow spaventoso o carino carino oh no 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 sono spaventoso e brutto sta morendo magro o grasso? magro lingua lunga guarda mi sto peggiorando denti paurosi bello calvo occhi un occhio sembro disgustoso mamma sono tornato stai diventando più alto stai diventando più alto quasi morto misurati oh my god oh sei brutto cinque anni ah sono vecchio tempo di trollare api il prossimo è l'orso oh my god cosa è successo? sentò qualcuno oh no mi dispiace stai andando al riformatorio no per favore sorella ah ciao sfigato mio dio non sembra male ah così debole oh my god forse no ciao sfigato 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 oh no ah get over here ah I'm coming ah non so nuotare aiuto ti annegheremo oh no ah ah m dove sono stanze nascoste mio dio devo nascondermi what tempo di mangiare no Em, devo uscire Mangiami, sono debole comunque Non posso aiutarti Cosa? Sei tornato Sì Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis No, God, no Meanwhile Torneo per il miglior modello Non può essere così Ah, perdenti Adesso mamma Ah, ho vinto Salta oltre questo per essere più alto Sì Andiamo Wow Bello Bello Wow Cosa sta facendo? Non può essere così Ragazzi andiamo Vieni qui Sarò più alto di te Arg no Hai perso il razzo È pazza Nu capo Ah Non mollare Popcat Va bene capo Oh my God Nu Ah, andiamo Cos'è questo? Cos'è questo? Oh my God Oh my God L'ultimo Oh my God Nani Wow Sorella dove sei? Perché? Ah Non può essere così 15 anni Ho perso le gambe Sei ancora piccolo Ma ero alto Sta mentendo Nu, non lo sono Stai andando in prigione Non ti vogliamo più Torna se sei più alto No, per favore Ah, piccolo prigioniero Nu 25 anni Non mi batterai mai Piccolo Facciamo un torneo Ok Tempo di saltare Oh my God Ah, sono più alto di te Cosa? Ehi Oh my God Oh no Yes Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone Ciao Wait a minute Ehi Abbarato Non mi interessa Inizio L'ho preso Ehi 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 A Prossimo difficile Prima io Ah Hola cosa Cosa An Grazie per il bust Grazie per il bust Superare la linea Attraversare la linea No Ho vinto Ah Cosa Perché Non ci posso credere Non può essere così Oh no L'ho ucciso Dove sono? Dio Oh ciao Oh mio Dio ciao Stava aiutando la madre malata Ha mangiato il suo migliore amico Questo secondo non è quello che pensi Era un bullo Ok Prendi il mio potere Sono fuori Grazie Primo Vediamo cosa hai fatto Si prendeva cura di sua madre Wow È bello Aveva poteri speciali Anche questo è bello davvero Grazie Stava tirando i bambini nella bocca d'aerazione Mangiava bambini grassi Mangiava bambini grassi Oh no 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 Male Vai qui Prossimo Tipo verde Ehi Catturava e mangiava bambini Era troppo alto e colpiva lo stipite della porta Distruggeva tutti i giocatoli Si innamorava di mamma gambe lunghe Wow quest'ultimo Strano davvero davvero Era cieco Era cieco Quindi non mi vedi Si Vai qui non posso metterti nel rosso Ehi è rosso Non vedo No Dai Ultimo Il mio allenatore Ciao per favore paradiso Amava i cani Era il più veloce del mondo Rubava scarpe e ci metteva del TNT Ehi è male Mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa Anche questo è male Amava i giocatoli Devo mandarti in paradiso Grazie No ero cattivo Tu sei il mio allenatore Ma ero cattivo Non farlo Qui è il mio posto È stato triste Ma l'ha fatto per il bene Ciao amico Lei è nella mia casa Impossibile Mi dispiace Volevo baciarti Aspetta Non sono bambalena Hai sbagliato persona Hai sbagliato persona Abbiamo bisogno di bambalena Cosa sta succedendo È la mia casa Devo andarci Oddio Cosa sta succedendo qui Bambalena bevi questo Ah No mai Dammi quello No ora esploderò Oddio Cosa è successo qui Perché tutti sono bambalena Questa persona ci ha cambiato E ora devi scoprire quale bambalena è reale Oh my god Bamban Quale pensi sia la tua ragazza Questo Posso sentirlo Non credo Era stinky joel L'hai baciato Quindi abbiamo ancora dieci bambalenas Ora dobbiamo controllare le vostre voci Prima bambalena Prima bambalena Wow Bellissima Prossimo E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente Ok Non sospetto Prossimo Ciao Dove ti stai nascondendo? Per favore Fa male Sono forte Um Non suona esattamente come bambalena Ma va bene Prossimo Ascolta Se riesci a sentire quello che sto dicendo Fai un cenno a qualsiasi telecamera Cosa? Voce maschile Sei un sospetto Prossimo Quindi ci incontriamo di nuovo Dove sono i miei figli? Prossimo Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza Sospetto Prossimo Mi ha portato in bagno Questo era strano Prossimo Piacere di conoscerti Um Penso che tu sia malato Prossimo Sei stato uno studente cattivo Bene Ultimi due Cosa? Ok Questo è Opila Ma l'ultimo Ok Questo sembra normale quindi tu Stai uscendo Avevo ragione Sono rimaste solo nove bambalena Quindi ora devo controllare i vostri spaventi Numero uno Ok bene Prossimo Non male Sembra reale Ok Questa persona era sospetta prima Attaccami Dove pensi di andare? Wow Era come bambalenas Non sei più un sospetto Prossimo Ahia la mia testa Era reale Prossimo Ora tu Cosa era quello? Non è bambalena Fai di nuovo Il secondo era reale Prossimo La mia testa Ma era uno spavento molto sospetto Prossimo Di nuovo Oh fratello Perché hai lo spavento di NabNab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello Sospetto Prossimo Un Spavento incredibile Mi piace Sei reale Prossimo Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles Sospetto Prossimo Tu lo sai Ahia Perché lo spavento di Bambam? Oh Ho appena cliccato il pulsante sbagliato Era ancora Bambam Stai venendo eliminato Ah Era Bambam Ops Ok Prossima categoria Disegnati ora Ok fatto Non sono bravo a disegnare Facile Non un bel disegno Prossimo Non il migliore ma ok Prossimo Wow Prossimo Wow Buono Prossimo Brutto Sei un sospetto Prossimo Um Perché c'è un Stinger Finn Cosa? Um e nulla Strano Prossimo Buono Wow Hai dipinto un modello 3D E l'ultimo Um Sceriffo Che diavolo Mi dispiace ma stai venendo eliminato Ciao ciao Ah Avevo ragione Non ne restano molti Prossimo Devi disegnare la tua cotta Facile Mostrami Ohio Bambam Prossimo Bene Ok prossimo Cosa? Figo Prossimo Bambino ma Bambam Quindi ok Prossimo Bambam malvagio Bene Questa è la mia cotta Aspetta Cosa è questo? Um e E tu? Ragazzi siete sospetti da ora Ma ora Bambalena era molto forte Quindi colpisce questo muro Non è il migliore Prossimo Quello blu Bambalena era molto meglio Prossimo Quello rosso Lasciami pensare Meglio del precedente Viola e arancione Perché questo? Viola molto bene Ma arancione Questo è brutto No 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 Ne restano tre Facciamolo Vai Siete al sicuro ragazzi Mi dispiace fratello Ma sei falso Per favore no Stinger Flynn Quindi ne restano solo sette Ok Quindi ora ho una domanda Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato Dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate Je ne suis pas dué pour des saints Um siamo andati a un appuntamento Stavamo bevendo caffè Per favore lasciami in pace Wow Mi chiedo dove l'ha portata Sembra reale Ok quindi ora tu Lo stesso Data Ok Lasciami pensare Mi ha portato per l'operazione E voleva cambiarmi Ah È ora di cambiarti Ah perfetto Un strano Ok Tu Mi ha portato a Umme In prigione Cosa? Non credo sia corretto Ok tu Data Prossimo Mi ha portato fuori per un appuntamento Ok Tu Mi ha portato in bagno Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno Fratello sei un sospetto E l'ultimo Sì Ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere Quindi ora Bambalena era molto veloce Benvenuti al torneo finale Siete pronti? Sì Sì Wow È così veloce Prossimo E prossimo E prossimo Ok Vediamo chi ha vinto Bravo Sei stato veloce E aspetta Perché ne manca uno? Mio dio Mi dispiace ma devo ucciderti Ciao Lumaca seline Bambalena era intelligente Quindi ora risolvi questo quesito Vieni Una mela più una mela equivale a? Due mele Hai ragione Bene Prossimo Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro Hai ragione Sei legittimo Prossimo Aereo meno carburante per auto equivale a boom Wow Sei così intelligente Prossimo È così facile È zuppa di pomodoro No Cosa? Assassino più coltello equivale a morto Non sei bambalena Ciao Zolfius Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste Ok Quindi disegnati e poi diventa quello Tu per primo Fatto Wow Sembra bambalena Ok Quindi ora per il prossimo Facile fratello Aspetta Cosa è questo? Sei un sospetto Ok dopo un sospetto il prossimo Andiamo Bambalena più nabnab Molto strano Ma ok Ora tu Cosa è questo? Zolfius più bambalena Prossimo Facciamolo Cosa è questo? Fratello Stai ricevendo una spilletta di sospetto Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata Mostrerà chi è reale e chi no Vado per primo Potresti essere bambalena Ok Quindi il prossimo Questa pozione l'ha eliminata? Fratello Ok Quindi il prossimo Grande prossimo Mio dio Questo è sospetto Hai il corpo di nabnab Quindi il prossimo Questo è falso Era Coach Pickles Mi dispiace Ok Quindi abbiamo solo 4 bambalene Ok Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita Cominciando con il primo Lei era super forte Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così Ok Questo era corretto Bambalena è forte Prossimo La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono 2 persone Ok Ora vediamo cosa c'è dentro di te Cosa? 2 persone Ok Questo è sospetto 2 persone sono in pigster Lei ha ucciso bambam perché era con nabnablena Ok Bambalena potrebbe essere gelosa di bambam È corretto Lei era innamorata di pigster Aspetta Tutto questo mi dice che sei un pigster Avevo ragione Ah Ne restano solo 3 Lei è stata morsa da bambanni Poi ha perso la mano È vero e corretto Prossimo Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici Questo è il problema matematico più difficile del mondo 2 più 2 4 Mio dio Sono così intelligente Sei intelligente come bambalena Era molto lenta come una lumaca Era come una lumaca quando camminava Mostrami come cammini Mio dio È la cosa di lumaca seline Strano Prossimo Lei puzzava Bella cena bambalena Non mi sento così bene Oddio cosa Mio dio È come Stinky Joel Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso Che diavolo Strano Aveva una grande pancia per chi amava mangiare Fratello Stava spaventando i nerd Siete tutti nerd Odio i nerd Attacco Ok prossimo Lei era la cotta di tutti Anche di Adam di Lenkybox Sì è vero Tutti amavano bambalena Aveva dei bambini con bambam Mostrameli Wow Sono dolce È stata colpita da Jammo Josh Tutte le cose qui sono corrette Ma ora passiamo alla prossima categoria Ora devi costruire la tua statua Il migliore equivale a vincere Ti sto chiudendo e aspettando i risultati 5 ore dopo Ok Vediamo i risultati Um Non male Prossimo Cosa è questo? Non è bambalena Mi dispiace Sospetto E l'ultimo Wow 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 Perfetto Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione Zambo Josh Mio dio Ok Quindi sono due bambalene rimaste Vediamo cosa hai fatto Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco Red Devilman didn't work out so here we go Sembrava un ragno con un sacco di denti È anche il ruolo di Nab Nab Fratello Era un maschio Aspetta Bambalena è una femmina Non un maschio Ok Sai cosa? Sei falso Impossibile Nab Nab Ok Quindi questa è la vera bambalena Iai Sì Finalmente mi hai trovato Qualcuno ha ucciso bambalena E anche qualcuno ha ucciso Nab Nab Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino Chi è l'assassino? Aspetta Mettili giù Prima bambam Vedo i tuoi denti su di lei Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore Chi è l'assassino Hai il mio braccio Oh mio dio mi dispiace Mani in alto Mani in alto Sei arrestato Quindi l'hai uccisa? Ho solo morso la sua mano Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione Impossibile che sia in prigione Ma aspetta O no abbiamo la stessa cella Ah finalmente posso vendicarmi Mio dio quindi l'hai uccisa Il caso è chiuso No aspetta Ho ucciso un poliziotto per salvarla Ah sei chiuso qui dentro No Mio dio mi hai salvato Bacio Mio dio quindi li siete innamorati alla fine Si Ok passiamo al prossimo Fata un ruro Stavo giocando con Bambalena e Nabla Oh mio dio è stato così cattivo Ma poi si è vendicato su di me e Bambalena Spero che nessuno mi spaventi di colpo Amico fammi uscire Ok quindi Nabla l'ha solo spaventata di colpo Ma aspetta cos'è questo? Il naso di Coach Piccol No mi stavano prendendo in giro Dove sei? Ah cos'è questo? Il mio naso Lascia che lo tagli per te No No Oh mio dio cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro Ehi cane mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi Grazie Ora di vendicarsi Amo il mio nuovo naso Ehi E' la tua fine Oh my god Ora è il turno di Bambalena Ok vedo Bambalena Ehi dammi il tuo naso Ok Grazie Ehi Bambalena Muori Ehi 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 Brother no 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 Ah Quindi hai ucciso Nab Nab e Bambalena Non lo prometto Impossibile Figlio di Bamban L'hai ucciso tu? Non sono stato io Lo prometto Ho invitato Bambalena al mio concerto Ma Nab Nab non piaceva l'idea Ehi Bambalena ho fatto qualcosa per te Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato Ok Nab Nab sei pronto per sentirmi cantare? Vai Ah Tempo di riposarsi Quindi l'hai ucciso Caso chiuso No Impossibile Chi lo ha fatto? Aspetta C'è una siringa Strumento del dottore Penso che il rosso potrebbe ucciderlo Non ero io Cercavo di farli mutare Ora di farti mutare Mangia questo Ah no 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 Ah ora tocca a te No no Ha funzionato Ah E ora è il momento di unirvi Muah Perfetto Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì Ma non è successo Mio dio L'umaca Selina è il tuo muco Li hai uccisi NANI No in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore Cosa stava facendo stava schivando meme lol Ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab Mi ha buttato in piscina Mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri Di nuovo Aspetta Adell'alfabeto Hai ucciso bambalena e nab nab Ero un peluche normale Ma lei sedeva sempre su di me Tempo di sedersi Un'ora dopo Ho aggiunto delle spine su di me Si pentirà di essersi seduta su di me Tempo di sedersi Due ore dopo Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a A Bambalena ceniamo insieme Ok Prendi posto Sarà la cena migliore Sto rompendo con te Aspetta cosa Cinque ore dopo Ultimo scherzo Aggiungerò della TNT Ah O voglio dormire Ho avuto una brutta giornata No 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 Ah aspetta Agrer È troppo Hai distrutto la mia vita Vieni qui Cosa è successo dopo Ti ha eliminato Sì Mi ha ucciso in cento modi diversi Ti faceva male Sì Aspetta Qualcosa sta dando i numeri Amanda L'hai fatto tu? Ho visto Bambalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito Tempo di guidare la mia nuova auto Ferma 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 Lei è uccisa No Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa Capisco Ah Amanda Anche lei è morta Aspetta vedo un coltello Coltello dello sceriffo Ehi tu l'hai fatto Stavo solo togliendo le loro maschere Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt Prima Bambalena Amico Altre maschere Amico Mio dio Altre maschere Ehi Torna qui Amico Cosa Ok prima la fata Cosa Justin Pensavo avessi paura della fata Ok la famiglia di Zolfius Wally Oh my god Amanda Ora il puzzolente Joel Per favore no Sono brutto Ah Cacca Fiddles Sono bello Vediamo Ah Skipping Young Ok dopo Nibbles Oh my god Adam di Lenkybox Amico impossibile Ora per questo ragazzo del capitolo 4 Per favore non fatelo Ho dei figli e sono brutta dentro Lo farò Ah Flamingo Wow Pazzesco Prossimo Nab Sono la persona più brutta del pianeta Non fatelo vedere Non dirlo Nessuno è brutto Mio dio Così carina Prossimo Jumbo Oh my god Em Chi sei Ok prossimo Luma Casseline Please don't do it cause 1m average Lo farò Genna Ok abbiamo controllato molti di loro Ora questo ragazzo Dà un nuovo capitolo Vediamo il tuo volto Bello Prossimo Bamban Vediamo No per favore no Cosa? Crick Ti amo John Viola Vediamo No per favore Smettetela subito Nonno di Squid Game Prossimo è Squalo Da Ah Isho Speed Prossimo Pigster 4 Kailus Prossimo allenatore Pickles Mister Beast Wow E ora tutti aspettavamo Nabnab e Bambalena Mio dio Wow Ok quindi non li hai eliminati Qualcuno ha sparato allo sceriffo Ah Perché l'hai fatto? Hai ucciso Nabnab e Bambalena? Odiavo Nabnab perché mi entrava nell'occhio Per favore esci dal mio occhio E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini Bambini state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio Ok Tempo di rubare dei bambini I miei bambini Mio dio Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione Mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione Per favore no Spavento Aspetta Sono morti? Aspetta cosa? Sì No Aspetta vedo qualcuno Ehi Fermati qui Ero innamorato di Bambalena Sposerai Bambalena? Sì Bambalena Lo sposerai? Sì Aspetta No Lui l'ha rubata Ora baciami per sposarmi per sempre No Per favore no Per favore no Ma è No Perché lo hai eliminato? Perché chiedi? Ti stavo salvando Ma è Justin Stavamo scherzando con te No Mio fratello Quindi hai ucciso il falso Mab Mab Sei un sospetto Ah Opia Perché? Era Zolfius Non io Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup Il mio cibo No No Eeeeeeeh Li hai mangiati tutti? Ero sazio Cosa? Sentito uno sparo Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto Dimmi cosa hai fatto Stavo cercando di uccidere Bambalena e Nab Nab e ho fatto una competizione per gli spaventi Tempo di uccidere il giardino di Bamban, siete tutti a metà partita Facciamolo Chi ha vinto allora? Nessuno Quindi non sappiamo ancora chi ha fatto Aspetta Cosa stai facendo? Mio dio Pipster Quindi hai fatto tutto tu Pensavo che avessi fermato il caso Ero solo affamato Ok stai andando in prigione Impossibile che sia stato Pipster Ma ce l'abbiamo fatta Evviva Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale Testiamolo Ho creato dei bambini bellissimi A Mutiamoli Fatto Non mi sento bene papà Vieni qui papà Ancora Oddio ha funzionato Il mio pennello è il migliore E me aspetta Ehi riportaci alla normalità Orario della lezione Bambini Disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente PopCut cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine PopCut Oddio Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri Come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi Per un milione di dollari Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah si ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta Come? Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Ah Andiamo Oh mio dio Ce l'ho fatta L'ultimo Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo Ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio È questa la mia macchina? Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto Tocca a me Perdenti Buon salto Tempo per me Nug Oh my god Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che ne disegni una nuova Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok È ora di distruggerli Wow Ha funzionato Capo Cosa devo fare? Saltami addosso Grazie Ora devo nascondermi Perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo Um Pokat aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che Bello Sta qui Prossimo Ah incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok Attacco Grazie mille Pokat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile Sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Ume Ume Ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa E ha bisogno di qualcuno Che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti E ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo Con il giocatore E lui voleva L'ultra crucifisso Per reagire Mi sta maltrattando Per favore Disegna un crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie Grazie Dunton 1 Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo E voleva diventare più grande Per tornare in gioco Ok Fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh Sarà difficile Ma ce la farò Ok Ce l'ho fatta Bene Ha rubato l'autobus Con i bambini di Ramby Friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok il prossimo È stato picchiato dai bulli E voleva denti E ossa nuove Per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow Questo è così figo Ha mangiato i bambini Dell'uccello opila Ma poi se ne è pentito I bambini restano qui Per un momento Beh i bambini Una buona cena Aspetta Non mi sento così bene Perché ci hai mangiato Ehi se vuoi ottenere Robux Per i prossimi dieci giorni Metti a mi piace E iscriviti ora Ha cambiato il suo gioco in porta E stava inseguendo le persone Come pazzo Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi Per il suo terzo capitolo Sai disegnare i personaggi? Sì Ho un'idea Perfetto Il prossimo Fatto Oh no fa schifo Ma lo amo Aspetta a prendere il vestito Grazie Il prossimo Fatto Forse l'ultimo Oh my god Disgustoso Che cosa hai detto? Il prossimo Voleva valutare ogni jump scare Di ognuno da Garten di Bambam Oggi valuterò tutti i vostri jump scares Prima Hai Ora tu Buono Prossimo Ora tu Ah cattivo Non fa paura Il prossimo È lo squalo Spaventoso Ora scrimme Eugen L'ultimo Buono Wow è stato impressionante Il prossimo morto Voleva mostrare ogni faccia Di ogni giardino personalizzato Di Bambam Mostrerò la tua faccia Nella vita reale No E me sei metà cattivo E metà buono Va è libero Prossimo Aveva tre fratelli Che avevano fatto le loro case E il lupo cattivo Stava cercando di distruggerle Ehi Io farò una buona cena Dobbiamo nasconderci Nelle nostre case Perché sta arrivando Farò saltare in aria Le loro case Buono Ora tu Sono troppo debole Finalmente L'ultimo Non funziona E' troppo forte Sei sopravvissuto E' bello Voleva essere più magro Perché la gente Lo prendeva in giro Lo farò Wow grazie Voleva una moglie E dei figli Ok Ti disegnerò Una moglie E dei figli Siete dei bellissimi bambini Ah bello Lo chef Gli ha rubato i figli E ci ha fatto gli hamburger Quindi Gli vuole indietro Cibo piacevole Torna indietro Cuciniamoli Non sotto i miei occhi Per me sei una persona perfetta Ok il prossimo E' così puzzolente Che quando scorreggia C'è un allarme tossico Non credo che le tue scorreggie Siano così cattive Sei sicuro? Sto per morire Mangia la cacca E poi fa la cacca Più grande del mondo Oh cos'è questo? Lo mangerò Buono Oh aspetta Devo andare in bagno Buono E' ora di lavarsi le mani Che diavolo Il prossimo E' così disgustoso Che fa la pipì Sul gabinetto chiuso E' ora di fare pipì Fatto Ha bisogno di sapone Per pulirsi Perché tutti stanno morendo Per il suo odore Lascia che lo disegni Fatto E per me fai solo schifo Ma sei una brava persona Prossimo Aveva una cotta per Baldi E voleva che lui Si innamorasse di lei Per favore Baciami Sei così intelligente Che dovremmo stare insieme Ok Prossimo Volevano avere Volevano avere dei fini Ultra intelligenti Ok Fammi disegnare Fatto Sei così intelligente Stava dando la caccia Alle persone E le uccideva E qualcuno Doveva fermarla Wow Wow No 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 Smettila di inseguirmi Devo disegnare Ok Fatto Ora Grazie per aver guardato Ciao